Buona serata, ben ritrovati a servizio del pubblico, un'edizione speciale. Questa sera non c'è in palinsesto Gradinata Nord, ma se ci state seguendo dall'inizio di questa settimana avete capito che questa anche per noi, per Primo Canale, è una settimana particolare dedicata all'informazione e a tutti gli approfondimenti su una questione che esplosa alla fine della scorsa settimana a livello nazionale e che poi abbiamo affrontato anche a livello Ligure da quando alla mezzanotte tra domenica e lunedì è scattata un'ordinanza che ha imposto una serie di vieti e di comportamenti da adottare anche qui nella nostra regione in Liguria. Parliamo ovviamente dei temi del coronavirus, ma siccome è giovedì e siccome di solito c'è Gradinata Nord parleremo anche di calcio perché avremo degli ospiti in studio che ci consentiranno di farlo perché ci sono notizie che riguardano Milan-Genoa, la sfida che si giocherà domenica a porte chiuse alle 12.30 allo stadio Meazza di San Siro e si giocherà nonostante ieri il Milan abbia chiesto il rinvio della partita perché voleva i tifosi, bene i tifosi non ci saranno, la partita ripetiamo si disputerà regolarmente avremo un notiziario, aggiornamenti anche legati a questa sfida, ma ovviamente gli aggiornamenti in primo piano sono dedicati alle questioni del coronavirus. Abbiamo visto ancora poco fa la conferenza stampa con il presidente Totti, l'assessore Viale e gli altri esperti e noi questa sera abbiamo il piacere di avere uno di questi esperti qua con noi che per mezz'ora sarà qua con noi in studio e ci potrà risolvere una serie di quesiti lo salutiamo subito, qua alla mia destra, Filippo Ansaldi, docente universitario di igiene e medicina preventiva e direttore della prevenzione di Elisa, l'Agenzia regionale per la sanità Buonasera, professore Ansaldi Buonasera Saluto il resto del nostro parterre, un compagno di viaggio che conoscete benissimo il nostro Domenico Ravenna, giornalista e anche in questo caso stasera esperto di questioni economiche perché ha scritto per 25 anni per il sole 24 ore abbiamo a lungo affrontato anche il tema del coronavirus con i riflessi economici faremo magari qualche scursus con te Domenico oltre che magari anche qualche accenno sportivo molti accenni sportivi invece con gli altri ospiti in studio sono il presidente regionale FIGC Giulio Ivaldi Buonasera Presidente Buonasera a voi e il vicepresidente nazionale di WISP, presidente Ligure, genovese nostro prodotto della sportività nostrana Tiziano Pesce, buonasera Tiziano Buonasera Luca, buonasera a tutti a casa e poi ovviamente altri compagni di viaggio che sono i nostri colleghi che stanno lavorando chi in redazione e chi sul territorio saluto subito perché è sul territorio e magari si sta prendendo anche un po' di fresco perché stasera il fresco è sicuramente più alto ve la saluteremo tra poco Linda Miante che si trova ad Alassio si trova di fronte ai due alberghi oggetto ovviamente del monitoraggio di queste ore e saluto anche in redazione con gli aggiornamenti e i primi numeri Silvia Isola, buonasera Silvia Buonasera Luca, gli ospiti in studio facciamo un breve ricapitolo di quello che possiamo darvi per i dati di oggi 19 i casi positivi in Liguria per quanto riguarda invece gli isolati di Alassio li abbiamo battezzati così 32 persone originarie dell'Astigiano potrebbero ritornare già a partire da questa sera o comunque nelle prossime ore nella loro regione di appartenenza la regione Piemonte sta per comunicare loro dove potranno tornare per passare questo periodo di isolamento mentre i dati italiani sono 45 le persone risultate guarite al coronavirus mentre i casi totali complessivi sono 650 abbiamo anche il bilancio purtroppo dei morti che è salito a 17 però un quadro abbastanza positivo soprattutto per la nostra regione che vede ancora due tamponi in corso uno all'ospedale Gaslini e uno invece a Villa Scassi in via precauzionale Grazie Silvia ovviamente prendi la linea nel momento in cui ci sono aggiornamenti ci sono i vostri messaggi, i vostri whatsapp ci sono le vostre telefonate tra poco apriamo le telefonate ricordo il numero verde 800 640 771 800 640 771 Professor Ansaldi subito con lei ne approfittiamo della sua disponibilità della sua presenza il suo orologio in queste giornate non è fatto di 24 ore ma molti di più immaginiamo perché siete fortemente sollecitati possiamo dire che questo per la sanità un po' il Ponte Morandi a livello di strutture per fortuna qua non si parla di 43 vittime che non dimenticheremo mai qua si parla però di davvero tanti casi allora io devo fare subito alcune domande che sono legate ai chiarimenti del quadro noi abbiamo parlato di 19 tamponi positivi in Liguria ci vuole spiegare cosa significa questo? vuol dire che in regione Liguria abbiamo utilizziamo, abbiamo messo a punto una strategia per cui il tampone lo facciamo solo ai pazienti quindi a soggetti che hanno dei sintomi abbiamo avuto i due primi casi positivi uno in AS5 e uno appunto in quello che poi è diventato il cluster Alessino quindi ad Alassio bene mentre in AS5 non abbiamo avuto più altri casi secondari abbiamo ad oggi un solo caso positivo nonostante i numerosi contatti che sono stati testati ad Alassio abbiamo avuto appunto gli altri casi per un totale di 18 casi positivi in AS2 mentre ripeto uno solo in AS5 tutti questi soggetti quelli che oggi in Liguria questa sera sono risultati positivi provengono dalla medesima area sì, c'è un'area in cui si è osservato un'elevatissima incidenza la cosiddetta area rossa della bassa lodigiana e una piccola area del Veneto in realtà tutti i nostri casi hanno un legame con la Lombardia questo è molto importante perché vuol dire che ad oggi abbiamo solo dei casi importati e una microcircolazione del virus in particolare solo in AS2 e solo in soggetti che sono arrivati in Liguria abbiamo messo a punto anche una strategia per verificare la circolazione del virus sul territorio indipendentemente dal link epidemiologico con la Lombardia stiamo testando tutti i casi di polmonite di cui non riusciamo a capire la causa e sono assolutamente inaspettati ma i primi tamponi su questi pazienti sono negativi che vuol dire che non è stato il coronavirus a causare queste forme di polmonite vediamo intanto l'impact siamo al quarto giorno il quarto giorno non di tutta questa situazione ma al quarto giorno dell'ordinanza regionale che verrà necessariamente aggiornata nel fine settimana c'è anche la questione scuola aperta e scuola chiuse la prossima settimana cercheremo anche di qui di dare una risposta anche se non sarà definitiva perché l'ha detto il presidente Toti in precedenza sabato, domenica anzi domenica si avrà un pronunciamento ha già chiesto scusa ovviamente a tutta quella che è l'organizzazione dietro al mondo scuola ma si vuole circostanziare il più possibile il fenomeno e si vuole comprendere quale può essere la misura migliore e la misura migliore la si può adottare nel momento in cui il quadro è il più vicino possibile al momento in cui si adotta un provvedimento e questo è evidente quarto giorno vediamo la tenda del San Martino dal quale ieri sono transitati alcuni operatori sanitari che erano entrati in contatto con un caso sospetto poi risultato per fortuna negativo Ansaldi prima di andare dall'indambiante che nel frattempo è pronta da Alassio le chiedo un'altra puntualizzazione abbiamo sentito parlare di sorveglianze attive 26 nell'ASL 1 in provincia di Imperia 242 nella provincia di Savona ASL 2 51 ASL 3 città di Genova ASL 4 Tiguglio 44 persone ASL 5 provincia della Spezia 217 persone cosa significa sorveglianza attiva? cerchiamo di creare un po' questo vocabolario che ci sta accompagnando e di puntualizzarlo allora noi ci troviamo in una situazione particolare perché non abbiamo vaccini non abbiamo farmaci specifici nei confronti di questo nuovo virus quindi l'unico modo per interrompere la circolazione quindi per fermare l'epidemia o l'ipotetica epidemia che stiamo contrastando in Liguria è quello di aumentare la distanza sociale cioè impedire che un soggetto infettante un caso ne infetti degli altri quindi obiettivo numero uno è identificare precocemente i casi quindi coloro che vengono in contatto con un caso o che vengono da aree affette vengono messi in isolamento fiduciario cosa vuol dire? vengono messi tipicamente al loro domicilio o quello che assomiglia di più al loro domicilio non devono venire in contatto con altri soggetti e passato il periodo di incubazione che attualmente per le nostre conoscenze è di 14 giorni possono riprendere i contatti che hanno interrotto è chiaro che se un soggetto in isolamento quindi in sorveglianza attiva perché i colleghi del dipartimento di prevenzione tre volte al giorno gli telefonano per dirgli come sta per chiedere se sono comparsi dei sintomi gli chiedono di misurare la febbre dicevo la comparsa di un quadro clinico che è compatibile col coronavirus scatta il percorso e quindi iniziano gli accertamenti per verificare che questo caso che diventa sospetto sia o no correlato a questo nuovo virus quindi non c'è il classico controllo alla porta ma è una sorveglianza fiduciaria la fiducia nei confronti della persona attenzione fiduciaria non vuol dire che non è obbligatoria cioè se io torno dalla Cina faccio un esempio sono obbligato in base all'ordinanza a comunicare al dipartimento di prevenzione che sono tornato dalla Cina e che quindi sono accompagnato all'isolamento fiduciario però chiaramente come non è previsto che le forze dell'ordine sorveglino questo comportamento che è in primis un comportamento civico per salvaguardare la salute della comunità Arrivano delle immagini che sembrano quelle di un set cinematografico però non è cinema, è realtà noi non stiamo facendo fiction cerchiamo di dare dei dati, dei risultati e cerchiamo anche di attenerci a quanto sta accadendo e le immagini che vediamo sono in diretta da Alassio quelle tute bianche sono coloro che devono entrare in contatto per vari motivi lo chiederemo tra poco alla nostra Linda con le persone che si trovano all'interno dell'hotel prima che molte di quelle persone lasciano l'hotel perché giustamente come si diceva oggi in Regione la destinazione finale di queste persone in isolamento fiduciario volontario detto bene? in questo caso sono contatti di caso quindi di volontario c'è poco quindi isolamento obbligatorio grazie professora Saldi per la specifica ecco sono tutte persone che verranno poi destinate alla loro località di provenienza quindi l'area piemontese da dove arrivano o l'area lombarda da dove arrivano allora subito da Linda Miante buonasera Linda qual è la situazione? che cosa sta accadendo? dove ti trovi? vediamo appunto molte tute bianche vediamo anche il momento della vestizione e della svestizione che sono procedure anche abbastanza complesse articolate e per certi versi fastidiose perché ce lo spiegavano non è una cosa così piacevole sì ben trovato Luca buonasera a tutti i telespettatori siamo come ormai da due giorni qui all'incrocio tra via Roma e via Boselli proprio davanti alle due strutture alberghiere da cui appunto lunedì è in atto l'isolamento la quarantena dei 150 ospiti che è appunto come ricordato anche dal governatore e come ricordavate voi sono in isolamento non volontario ma appunto per ordinanza e in questo momento dalle immagini che vedete di Mauro Panozzi si vedono gli operatori sanitari dell'ASL ma anche della protezione civile che finite gli interventi all'interno della struttura ovviamente in questo caso interventi di pulizia e di trasporto all'esterno dei materiali ovviamente di tutto ciò che riguarda l'igiene delle camere e dei servizi si stanno svestendo è un'operazione piuttosto lunga come avete potuto vedere anche nei minuti precedenti richiede molta attenzione anche da parte di chi aiuta gli operatori a svestirsi e verrà quindi ultimata nei prossimi minuti probabilmente ci vorrà ancora una mezz'oretta come dicevo ci sono alcuni aggiornamenti perché la giornata sembrava ormai conclusa ma in realtà non è così perché pochi minuti fa intorno alle 9 un altro ospite ormai purtroppo non più volontario della struttura è stato trasportato all'esterno dalla Croce Rossa quindi dall'ambulanza non sappiamo molto anche qui i volontari non hanno avuto modo di approfondire il caso perché insomma si parla di un uomo è probabilmente un uomo anziano ma non sappiamo ancora esattamente che cosa sia successo probabilmente ha iniziato ad accusare sintomi legati insomma alla respirazione ha avuto difficoltà respiratorie e quindi è stata chiamata all'ambulanza ed è stato trasportato ovviamente per fare ulteriori accertamenti anche su questo fronte ci aggiorneremo mentre continuano a passare le immagini appunto della svestizione Luca come dicevi tu un altro aggiornamento è appunto quello legato alle operazioni di pulizia delle strutture che chiaramente devono essere portate avanti dal personale abilitato a fare ciò quindi anche con tempistiche differenti c'è il personale che può entrare all'interno delle due strutture che ricordiamo essere collegate infatti tanti operatori tante persone che lavorano all'interno delle due strutture erano entrate in contatto con la prima paziente risultata positiva la donna di 74 anni e questo ovviamente ha fatto sì che poco fa infatti si vedono a lato i sacchi neri sono quelli appunto delle lenzuola degli asciugamani di tutto ciò che è stato usato dagli ospiti degli hotel e che ovviamente deve essere sanificato questa è attualmente la situazione non ci sono altre particolari novità se non appunto quello che mano a mano gli operatori ASL lasceranno la struttura e insomma torneranno poi ovviamente domani salvo nuovi aggiornamenti e nuove nuove emergenze in questo momento la zona ovviamente è presidiata e transennata come potete vedere così già da alcuni giorni già da diverse ore per questioni di sicurezza essendosi trattandosi di una quarantena chiaramente Luca ti restituisco la linea ovviamente te la richiederò non appena avremo ulteriori aggiornamenti grazie eravamo un po' preoccupati perché fino a un certo punto non ti vedevamo eri voce fuori campo e giustamente avete privilegiato la scena che stava raccogliendo raccontando la telecamera però cominciavamo a nutrire dei dubbi sulla tua presenza dietro la telecamera e non da qualche altra parte drammatizziamo un po' perché per fortuna ce lo possiamo permettere perché la situazione si sta anche un po' circoscrivendo e anche il tuo sorriso ce lo conferma Linda noi ci fermiamo per qualche istante regia poi tra poco Tiziano Pesce Giulio Ivaldi Domenico Ravenna voglio che ci raccontiate il vostro punto di osservazione da FIGICI a WISP passando proprio per l'esperienza di un cronista che ha seguito per anni tante vicende che in qualche modo hanno avuto anche riflessi sociali a tra pochissimo Rieccoci come sapete questa settimana al servizio del pubblico sostituisce la sera le altre trasmissioni questa sera ci sarebbe stata gradinata a nord parleremo comunque di calcio perché Milangeno domenica si gioca ma stiamo parlando di quello che è la situazione legata al coronavirus e i provvedimenti in Liguria i numeri le cifre e tanto anche i messaggi e le riflessioni che arrivano anche dalla nostra redazione Silvia Isola Rieccoci con il numero whatsapp 347 676 6291 potete scriverci lì tra poco faremo passare anche i messaggi in onda ma partiamo con una domanda più seria ovvero se non si testano i contatti asintomatici non si rischia un aumento dei contagi da parte di questi nel periodo di incubazione però permettetemi di fare anche una domanda un pochino meno seria perché Daniele ci chiede ma è vero del contagio di un giocatore del Genoa e si riferisce alla notizia che Goldaniga è di Codogno ma si allena a parte questo sta bene su questo vorrei una battuta del nostro Domenico Ravenna studio allora facciamo così ripeti la domanda invece quella prima seria perché Ansaldi potrebbe rispondere anche all'altra vista la fede di Ansaldi che possiamo svelare professore Ansaldi e tifoso rosso-blu quindi la collocazione questa sera a livello di imparissesta è perfetta ma ripetimi la domanda invece quella seria Silvia la domanda seria riguarda appunto i contatti asintomatici appunto ci si chiede ma non si rischia un aumento dei contagi se non le si testa da parte di questi nel periodo di incubazione tra l'altro su questo tanti si chiedevano ma il cluster di Alassio può essere entrato in contatto magari muovendosi sul territorio Ligure con altre persone? Ansaldi allora noi sin da subito abbiamo utilizzato una strategia basata su testare solo i casi sintomatici questo perché perché durante il periodo di incubazione noi non sappiamo quando il soggetto perché è asintomatico inizierà cioè ipotizzando che poi diventi positivo inizierà a eliminare virus e quindi come dire io posso assaggiare un soggetto asintomatico lunedì viene il soggetto risulta assolutamente negativo ai test e poi il giorno dopo sarebbe diventato positivo se noi l'avessimo testato e quindi come dire è assolutamente inutile daremo un senso quando nel caso di un test negativo daremo un senso di falsa sicurezza che assolutamente non è raccomandabile e quindi abbiamo deciso di assaggiare solo i soggetti sintomatici gli asintomatici quelli che non presentano uno starnuto una lineetta di febbre questo è il ragionamento esatto mi permetto di dire che di fronte a una situazione epidemiologica particolarmente pesante in Lombardia e in Veneto hanno testato anche i soggetti asintomatici ma da ormai 24-48 ore sono passati alla strategia che utilizziamo anche noi perché è una strategia sicuramente più efficace parlava di Goldaniga quel messaggio Domenico perché Edoardo Goldaniga abbiamo scoperto veramente che Codogno è capo di mundi cioè ma veramente incredibile per esempio l'appartenente all'orchestra il musicista Spezzino che è andato a suonare a Codogno ora scopriamo per esempio che Edoardo Goldaniga difensore del Genoa è di Codogno si sta allenando precauzionalmente a parte ma sta benissimo quindi io credo che l'unico legame concreto e come dire temporaneo è il fatto che i genitori che risiedono a Codogno ma credo che magari lui non ci sia neanche andato nel fine settimana voglio dire sappiamo che i giocatori poi sono abbastanza coinvolti nella loro attività diciamo agonistica e risiedono spesso agli antipodi rispetto magari al paese di origine stanno magari mesi senza frequentare le rispettive famiglie in questo caso tutta la famiglia di provenienza quindi magari non c'è quel contatto che ci può essere con una moglie piuttosto che con un figlio ecco infatti mi risulta che precauzionalmente onde evitare anche eccessivi allarmismi sia stato messo leggermente in disparte ma credo a fini puramente come dire non certo per evitare una cattiva promozione di questa situazione anzi tra l'altro dal punto di vista dell'infermeristico per fortuna l'infermeria del Geno in questo momento gode di buona salute a prescindere da Goldaniga che pure sta bene e che salutiamo allora noi adesso ci dobbiamo fermare perché così recuperiamo la pubblicità e andiamo da Tiziano Pesci da Giulio Ivaldi il mondo dello sport che come sta vivendo questa settimana inizialmente sembrava non si potesse fare nulla negli impianti poi si è scoperto che si possono fare gli allenamenti poi si è scoperto che si possono fare anche eventi che però non prevedono la partecipazione del pubblico ma ci arriviamo tra poco Rieccoci al servizio del pubblico una serata speciale quella del nostro paninsesto in questo giovedì sera e allora pronti nuovamente a dialogare con voi da casa con i messaggi pensieri Silvia tante domande ovviamente per il nostro ospite e per l'altro che sta per arrivare perché tra poco ci sarà l'assessore regionale della sanità ma intanto c'è il professor Ansaldi a te Silvia Sì, per il professor Ansaldi direi che una delle domande più frequenti è quella delle persone che hanno patologie croniche come ad esempio questa signora che diceva una patologia polmonare cronica quindi sono nelle categorie a rischio intanto come mi posso proteggere poi vorrei sapere se tra le 500 persone in sorveglianza attiva alcune hanno visitato Genova e poi un'altra che secondo me è molto interessante il tampone risulta positivo solo alla comparsa dei sintomi e se viene fatto prima di manifestarsi dei sintomi risulta negativo? Allora tre domande sono anziano quindi chissà se me la ricorderò Silvia tieni tini pronta se no facciamo il tampone anche al professor Ansaldi con la gravata che è anziano come lui stesso si definisce autodefinito poi ha un concetto tutto su di anzianità ma vabbè rischiamo di finirci tutti i tempi scherzo allora per quanto riguarda la signora indubbiamente le persone anziane in particolare i soggetti che hanno le cosiddette comorbosità cioè quindi paziente con patologia cronica respiratoria come la signora o patologie cardiovascolari croniche o il diabete o tutte quelle altre patologie insufficienza renale cronica eccetera sono soggetti a sviluppare complicanze in generale con un'infezione virale respiratoria per esempio anche per l'influenza abbiamo notato che nella nostra esperienza l'esperienza che abbiamo maturato in questi ultimi due mesi soggetti con comorbosità sviluppano più facilmente complicanze e quindi come dire ci aspettiamo un impatto maggiore in queste fasce d'età la seconda domanda Silvia ripeti grazie la seconda domanda riguardava proprio la questione del tampone perché ci si chiedeva se ovviamente è negativo prima del manifestarsi dei sintomi oppure no il tampone può essere negativo prima delle comparsa dei sintomi il problema dal punto di vista di una diagnosi appropriata che non sappiamo quando il tampone diventa positivo in relazione alla comparsa dei sintomi può essere positivo un paio di giorni prima un giorno prima o magari cinque giorni prima e quindi come dire è imprevedibile questo aspetto e allora queste sono le domande queste sono le risposte io voglio il mondo dello sport e parto da Giulio Ivaldi presidente di FIGICI Liguria c'è stata ovviamente subito dopo l'emanazione dell'ordinanza un po' di spaesamento cosa si poteva fare cosa non si poteva fare poi sono arrivate le puntualizzazioni che cosa hanno chiesto le società a voi come FIGICI Liguria ma io credo che le società Liguri calcistiche quelle che conosco io io mi occupo specificatamente del mondo dei dilettanti del settore giovanile hanno dimostrato una grande maturità c'è stata diciamo così una suefazione coerente a quella che era l'ordinanza della domenica sera se non ricordo male noi siamo usciti subito a comunicato dicendo che non avremmo giocato le partite di questo weekend che andiamo a incontrare quelle del 29 febbraio del primo marzo e non abbiamo avuto particolari situazioni di criticità noi abbiamo avuto difficoltà invece nell'applicazione diversificata di questa di questa ordinanza da parte degli attori che sono sul territorio e questo forse è uno dei problemi che però dobbiamo ricondurre a un'attività sportiva quindi è assolutamente relativo rispetto alle problematiche molto più importanti di salute eccetera noi abbiamo avuto a macchia di leopardo dei sindaci che hanno chiuso gli impianti altri che non hanno chiuso gli impianti altri che hanno permesso l'allenamento in determinate cose credo che sia molto importante ma non solo per lo sport ma in generale vedo che ci stiamo indirizzando verso questo tipo di iniziative di ordinanze che abbiano diciamo così una caratteristica di raccogliere un po' tutto il mondo ligure in modo tale da evitare purtroppo ad esempio oggi lo dico solo così è già uscito un comune adesso non so neanche se sia corretto e se è uscito possiamo dirlo ecco è già uscito un comune che diciamo così chiude l'attività sportiva fino all'8 di marzo mentre mi par di ricordare professore che l'ordinanza termina al primo per adesso diciamo così alle 23.59 di domenica sera questo crea un po' di scompiglio e crea anche diversificazioni sul territorio e un po' di mi permetto di dire Valdi che però purtroppo o per fortuna questo rientra nelle competenze che ciascun sindaco come tutore della salute pubblica del suo comune ha poi possiamo creare delle deroghe e possiamo ragionarci in base alle esperienze poi è chiaro a volte anche da esperienze concrete e quotidiane anche le norme amministrative cambiano e si adeguano ai tempi e anche ai contesti Tiziano Pesce vicepresidente nazionale di WISP una visione nazionale e locale perché Tiziano è anche presidente Ligure WISP Unione Italiana Sport per tutti una delle realtà del sport maturale più grandi d'Italia Luca diciamo che siamo arrivati ecco ad assumere decisioni sul territorio Ligure con qualche giorno di rodaggio perché dal punto di vista diciamo del nostro osservatorio nazionale come presidenza nazionale ovviamente già lo scorso fine settimana abbiamo lavorato sui casi della Lombardia quindi noi già venerdì avevamo sospeso tutta l'attività che era in programma nel fine settimana sulla provincia di Lodi con un'attenzione che andava anche oltre come riteniamo sia giusto diciamo quella che è stato il decreto del presidenzo del Consiglio dei Ministri poi anche le decisioni regionali perché nel caso appunto delle attività organizzate dal nostro comitato territoriale di Lodi avrebbero previsto nel fine settimana anche la partecipazione di associazioni sportive da altri territori da altre province anche da altre regioni anche dalla Liguria assolutamente andiamo verso proprio una stagione che vede diciamo le fasi anche nazionali le fasi finali dei campionati tante attività interregionali pensiamo per esempio a un'attività molto sviluppata in casa Wisp che è quella delle ginnastiche prevede proprio nelle prossime settimane a calendario tantissimi scambi proprio fra Liguria Lombardia Piemonte quindi nel caso del scorso fine settimana era prevista per esempio la partecipazione di associazioni dal milanese dal mantovano quindi province che in quel momento comunque non erano toccate e quindi abbiamo sospeso tutte le attività questo ci ha messo nella condizione poi ovviamente come Wisp nazionale ma in questo caso diciamo con la giacca del presidente regionale della Wisp Ligure domenica sera ovviamente di affrontare tempestivamente diciamo le conseguenze diciamo delle decisioni di regione Liguria e quindi uscire tempestivamente con i nostri comunicati attraverso ovviamente l'utilizzo dei canali internet e dei canali social per bloccare tutte le attività poi come diceva anche il presidente Ivaldi diciamo ci sono state alcune subito alcune incomprensioni girava una delibera una ordinanza non firmata che diciamo ai primi punti diciamo portava la sospensione delle attività ludiche sportive ma indipendentemente da questo noi abbiamo bloccato tutte le attività perché poi come Wisp come sai partendo proprio dalle attività di campionato dagli sport di squadra il più diffuso anche per noi il calcio piuttosto che la palla canestro la palla volo e la palla nuoto sostanzialmente giocando sette giorni su sette domenica sera abbiamo già bloccato tutte le attività a partire dal lunedì chiarissimo Tiziano poi torniamo anche sullo stato d'animo anche in prospettiva vedremo che cosa succederà poi con la nuova ordinanza che tipo di restrizioni porterà se ne porterà di nuove c'è una telefonata numero verde 800 640 771 pronto chi parla buonasera non c'è più recuperiamo un messaggio da Silvia Silvia ecco un altro messaggio per il professor Ansaldi anche perché poi ripeto ci sarà staffetta con un altro grande ospite ne ho ben due perché abbiamo intanto uno che ci chiede un soggetto ad oggi senza sintomi che ha avuto contatti con meno di 14 giorni fa con una persona malata che cosa deve fare stop Silvia che cosa deve fare rispondiamo subito a questa domanda allora se ha avuto il contatto con un caso sospetto confermato di coronavirus deve stare in isolamento fiduciario quindi se ne deve stare a casa può frequentare i familiari neanche isolamento fiduciario quindi deve minimizzare i rapporti con i propri familiari deve mettere in atto tutte quelle misure per impedire un ipotetico e chi mi dice tutte le misure che deve adottare allora il dipartimento di prevenzione attualmente contatta i soggetti in isolamento fiduciario e preve un intervento ed educazione sanitaria spiega come si devono comportare i familiari e in primis il soggetto seconda domanda Silvia poi abbiamo la telefonata che abbiamo recuperato Silvia un flash un tampone positivo da sempre seguito all'esordio della malattia allora fortunatamente un soggetto infettato dal coronavirus spesso nell'80% dei casi ha una sintomatologia molto moderata o decisamente moderata a volte il quadro può essere addirittura paucisintomatico cosa vuol dire paucisintomatico magari un po' di tosse un po' di astenia quindi il soggetto si sente stanco ma nulla di più quindi pensa a normale influenza invece poi il famigerato coronavirus che non è altro che una semplice influenza per lui ma non per tutti telefonata eccoci pronto il suo numero dove chiama? ah chiama da Genova salve volevo sapere Sampdoria a Verona la fanno a porte chiuse? allora Sampdoria a Verona non è ancora stato comunicato non mi risulta che sia arrivata ancora una comunicazione ufficiale in questo senso stiamo attendendo informazioni al riguardo appena le avremo ve le daremo prontamente ovviamente in maniera tempestiva credo ci sia un'altra telefonata prendiamo ancora quest'altra telefonata quella che abbiamo appena ascoltato era meramente sportiva ma sentiamo la prossima il nome e da dove chiama pronto? Alessandra Alessandra benvenuta ci ascolti dal telefono eccoci sì certo buonasera volevo chiedere una cosa professore quando una persona viene ricoverata per un sospetto coronavirus infezioni da coronavirus i tamponi che devono essere effettuati se non sbaglio sono tre se nel frattempo penso di aver capito questo se nel frattempo c'è una sovrainfezione di un altro virus come penso possa accadere tipo un virus influenzale e quindi siamo tutti tranquilli perché lui perché la persona ha il virus influenzale o aspettiamo di avere ancora l'esito dei due tamponi per i veri casi sospetti innanzitutto i tamponi possono essere uno o due tre come dire si possono fare tre tamponi per averne una di riserva per seconde analisi ma si fa un tampone nasale e o faringeo forse la signora ha sentito che facciamo tre test sullo stesso campione per essere certi che non ci siano problemi sulla diagnostica quindi fisicamente introduco un tampone solo poi faccio il test del tampone esattamente attenzione sui casi sospetti noi andiamo a cercare proprio il coronavirus alcune volte come il caso per esempio dei due pazienti che avevano questa polmonite di natura da determinare abbiamo anche eseguito test per una diagnosi differenziale e uno di questi per esempio aveva una influenza da H1N1 quindi un'influenza stagionale e allora noi ci fermiamo per qualche istante ringraziamo il professor Ansaldi che riavremo poi in altre trasmissioni in altre occasioni perché ci serve fare informazione e solo voi della materia ce la potete dare perché non siamo allenatori ma non siamo nemmeno ovviamente infettivologi come non siamo ingegneri giusto per parlare di tre tematiche molto frequenti in questi studi negli ultimi mesi nelle ultime settimane grazie professore Ansaldi buon lavoro e grazie di quello che fa lei e lo suo team e la sua squadra grazie a voi parlano di calcio una battuta sul calcio giusto giocare Milangeno a porte chiuse da Genuano e da infettivologo vediamo il risultato dopo una partita lei dice dopo il risultato le dirò esatto una valutazione ex post allora si è impegnato a farsi intervistare sul calcio dopo Milangeno grazie Ansaldi ci fermiamo per qualche istante tra poco ancora insieme condiziano pesce Giulio Ivaldi ovviamente Domenico Ravenna e un altro ospite che ci raggiunge e parleremo che è della questione scuole restate lì rieccoci al servizio del pubblico una trasmissione speciale come speciale alla programmazione di questa settimana ci sarà anche uno spazio dedicato al calcio parleremo di Milangeno come si preparano queste due squadre in vista della sfida di domenica alle 12.30 a porte chiuse ma torniamo sul tema del coronavirus il nostro numero verde lo vedete per chiamarci ci ha raggiunto in studio la ringraziamo l'assessore regionale della sanità la vicepresidente di regione Liguria Sonia Viale buonasera assessore assessore le faccio subito una domanda bruciapelo che è oggetto di tanti messaggi tante telefonate lo dobbiamo sgombrare avete già chiarito prima in conferenza ma è bene ribadirlo il tema delle scuole aperte e chiuse la prossima settimana perché fino a domenica c'è un'ordinanza fino alle 23.59 di domenica poi che succede? allora è prudente è un atteggiamento prudenziale che spero sia stato compreso ma ne sono certa perché i riscontri che abbiamo avuto è di una comunità che ha capito l'importanza di mettere delle barriere rispetto a una diffusione di questo virus che ha delle dinamiche strane ancora da definire noi abbiamo per fortuna questa settimana due diciamo situazioni la spezia è assolutamente circoscritto a quella persona che da spezia si è recata a Codogno e poi abbiamo questo luogo Alassio che è diventato un po' diciamo un picco rispetto alla presenza dei casi positivi e questo se venisse confermato potrebbe non giustificare il permanere dell'ordinanza però non era conoscibile domenica scorsa noi ci riserviamo di attendere ancora due giorni il nostro interesse è che ovviamente tutto venga ridimensionato che questo tema non sia più al centro e soprattutto non rallenti lo sviluppo economico della nostra regione perché comincia a diventare un peso e ne ho evidenze perché ascolto sento però prima la salute prima tutte le cautele e dopodiché senza ovviamente creare l'allarmismo ma penso che la campagna di comunicazione e anche sentire i nostri scienziati perché poi sono loro che devono descrivere con parole chiare con le evidenze scientifiche in loro possesso di che cosa stiamo parlando un nuovo virus e non un super virus Assessore ovviamente ci saranno tante domande per lei dai whatsapp alla redazione al numero verde ma prima parlava di Alassio Sonia Viale noi torniamo proprio lì con la nostra linda miante la nostra inviata vediamo immagini che sono in diretta perché ogni tanto ha fatto zapping e vedeva tutte bianche non era la scena di un film né una simulazione è tutta realtà legata a quanto sta accadendo in quell'albergo è solo lì perché poi Linda nelle inquadrature poco fa vedevamo sullo sfondo quello che accadeva al di fuori dell'albergo nelle immediate vicinanze poi un agente di polizia che vediamo ancora dietro di te e poi in un terzo piano più vicino alla telecamera uno che faceva footing un altro che passava in bici ecco questo testimonia proprio i tre livelli di vita in questo momento ad Alassio ho interpretato bene? Allora aspetta un attimo Linda perché perfezioniamo il collegamento dal punto di vista audio però Assessore Viale è un po' questa la rappresentazione perché effettivamente e per fortuna anche nella stessa Alassio la città del Muretto non c'è il signore di Alassio che è stato riscontrato positivo al coronavirus ci sono solo questi profili abbiamo mai conosciuto come cluster perché è un grappolo è un termine che si usa in economia si usa anche in televisione si usa anche in sanità l'abbiamo scoperto adesso tutti concentrati lì in questi due alberghi vero Assessore? Sì proprio così poi abbiamo ovviamente in tutta la regione delle sorveglianze attive perché ci sono stati dei contatti di caso cosiddetti quindi li stiamo attentamente monitorando con i nostri uffici igiene e prevenzione quindi c'è anche tutto un aspetto che non deve destare allarme è una precauzione prevista da tutti i protocolli ministeriali e obbligatoria per chi proviene da determinate aree a rischio ricordiamo Assessore anche questo sorveglianza attiva significa un signore o una signora che dice o un giovane che dicono io arrivo da quei posti oppure ho incontrato il signore e la signora che sono risultati positivi ma che non hanno nessun tipo di sintomo sorveglianza attiva obbligatoria per 14 giorni quindi con la telefonata del nostro ufficio due giorni ovviamente la verifica dei controlli dell'insorgenza di sintomi immediatamente proprio per tutelare la salute pubblica quindi questo è chiaro è un disagio ma io penso che tanti si sono sottoposti proprio volontariamente vorrei anche spezzare una lancia a favore della comunità cinese perché tra i più diligenti a sottoporsi a questo sistema sono proprio le persone che provengono dalla Cina a parte forse quella che è partita da Wuhan ha fatto tutto il giro poi ne parliamo tra poco resti lì perché c'è una storia un po' particolare che oggi è stata anche un po' approfondita da noi di una studentessa che è partita da Wuhan non è atterrata direttamente in Italia ma la storia la raccontiamo tra poco Linda pronta Alassio eccoci eccoci Luca sì sembrerebbe il set di un film ma non è così questa è la realtà ad Alassio da ormai due o tre giorni in questo momento si stanno letteralmente svestendo come potete vedere dalle immagini di Mauro Panozzi gli ultimi due operatori dell'ASL che negli scorsi minuti nelle scorse ore erano all'interno delle due strutture in cui circa 150 persone sono in quarantena da lunedì per ordinanza in questo momento la situazione è questa ciò che state vedendo gli ultimi due operatori sanitari si stanno svestendo a vicenda questa è una prassi che come ci spiegavano prima sono stati letteralmente degli addestramenti per cui restano mano a mano c'è una persona che sveste tutti gli altri medici tutti gli altri operatori ASL restano in due l'ultima persona sveste la persona che ha svestito tutti gli altri quindi per una sorta di contatto di contatto si azzerano i rischi e quindi l'ultima persona che rimane vestita è la persona che non era entrata in contatto con tutti gli altri e quindi è questo operatore che state vedendo in questo momento si sta apprestando e tornare insomma con i suoi abiti civili ovviamente ricordiamo che si tratta di personale preparato a fare questo ci sono delle misure di prevenzione di precauzione sono state rispettate questo è il motivo per cui questa svestizione come dicevi tu Luca sta andando avanti ormai da più di un'ora perché ovviamente è un'operazione piuttosto lunga per quanto riguarda la persona che è stata trasportata via è stata portata via in ambulanza non sono giunte qua delle novità non si sa nulla anche perché ricordiamo e ovviamente ci complimentiamo con i volontari della protezione civile e della Croce Rossa che sono tutti a Lassini come ricordavamo prima quindi complimenti anche a tutti questi ragazzi che ormai da ore si stanno adoperando per dare una mano per quanto riguarda le forze dell'ordine in questo momento polizia che vedete sono qui per presidiare ovviamente si daranno poi il cambio ci sono stati i carabinieri la polizia municipale questo per mantenere sempre presidiata la zona per qualsiasi cosa possa succedere anche perché ovviamente in questo momento il traffico è deviato per ovvi motivi in questo momento ci sono ancora i mezzi insomma della protezione civile e dell'ASL qui sul posto per cui ci devono essere delle misure particolari Luca direi che per il momento da Lassio non ci sono altre novità se non quello che appunto la giornata forse finalmente si sta concludendo in attesa dei risvolti di domani e probabilmente del trasferimento del gruppo cosiddetto gruppo di Asti grazie Linda ci riaggiorniamo ovviamente forse credo poi tutti possano anche spostare prima di salutarci definitivamente dopo il lungo e proficuo lavoro di oggi io ho un flash con Tiziano Pesce e Giulio Ivaldi partenari Ivaldi dalle società oltre a questa situazione di diciamo impasse di imbarazzo c'è stato qualche richiesta particolare al di là dei recuperi perché poi bisognerà riprogrammare quello che è il calendario della stagione ma forse questo è il problema minore ma in ogni caso che sottolineature sono arrivate dalle società di calcio della Liguria ma guarda tanto i recuperi li abbiamo già riprogrammati sperando che le situazioni vadano in un'evoluzione positiva poi eventualmente affronteremo temi diversi se le cose dovessero cambiare oggi ha comunicato abbiamo già reso noto quali saranno le tempistiche eccetera guarda ripeto devo dire la verità che abbiamo avuto una forte comprensione del problema una maturità importante certamente ripeto ci sono state delle domande perché ci sono state due traordinanze che si sono susseguite nei primi giorni della settimana c'era questo problema di vedere se noi avessimo potuto organizzare le partite di questo weekend a porte chiuse ma purtroppo questa è diciamo così una tipologia di svolgimento delle gare che per il mondo dei dilettanti e del settore giovanile non ha una concreta c'è la mamma c'è il papà c'è il familiare c'è un universo che si muove è un po' questo il ragionamento quello poi c'è anche un altro aspetto che sui nostri campi cominciamo a giocare su molti campi alle 9 di mattina e finiamo alle 18 di sera nel senso che c'è una partita alle 9 ce n'è una alle 10 e mezza ce n'è una i campi sono limitati a livello di disponibilità in via vai di persone che entrano e escono e poi ovviamente il nostro mondo è un mondo di dilettanti di volontariato quindi non abbiamo neanche le competenze le persone preparate come può essere una partita appunto di professionisti dove c'è comunque un'entrata e un'uscita e comunque anche un numero di persone di servizio che possono garantire quindi abbiamo preferito aderire e ringraziamo su questo aspetto le istituzioni al 100% a quello che sono state le indicazioni di massima ripeto qualche società ha tenuto aperto i campi per gli allenamenti secondo i disposti dell'ordinanza numero uno di domenica sera qualche d'una ha preferito chiuderla anche diversi sindaci si sono comportati però diciamo che non abbiamo avuto particolari problematiche perché credo tanto che il problema debba essere gestito in questa maniera con molta serenità con molta maturità e anche nella consapevolezza che in fondo parliamo di sport e qui abbiamo un problema più importante molto più serio però a volte puntiamo il dito proprio su alcune persone che nello sport e nel calcio in particolare si prendono anche un po' troppo sul serio e quindi è piacevole sentire questa sua constatazione Tiziano sport amatoriale sotto tutti i fronti tutti i livelli anche qui io lo dico lo sappiamo fai lo sport fai un'attività ma quando fai una competizione certo decubertianamente l'importante è partecipare ma quando partecipi vorresti vincere e quindi vorresti giocarle le manifestazioni assolutamente attività amatoriale attività dilettantistica ma come hai sottolineato ovviamente un'attività competitiva soprattutto per quei riferimenti che davo prima quindi a partire dai campionati di calcio pallavolo pallacanestro pallanuoto e attività che si svolgono infrasettimanalmente ma anch'io sottolineo veramente una grande maturità del movimento associativo Ligure una grande condivisione ecco di tutti gli aspetti comunicativi che hanno ovviamente diciamo contribuito rispetto alle istituzioni a far passare ecco il messaggio del resto noi come UISP come sei bene per noi veramente ci crediamo molto lo sport come prevenzione e promozione della salute è un piacere avere l'assessore Viale qua con noi questa sera e io direi che quindi non si può parlare solo di prevenzione e di promozione della salute sull'attività praticata in situazioni di questo tipo che ovviamente non avremmo voluto vivere ma sono situazioni straordinarie che dobbiamo affrontare ecco faccio una battuta come dire per stemperare anche un po' il clima direi che giocare magari qualche giorno meno ma essere più tranquilli e mettere in campo ecco tutta un'attenzione magari una prudenza anche eccessiva forse non fa male ovviamente come UISP oltre a tutta l'attività organizzata sul territorio direttamente come sai c'è tutta l'attività anche delle nostre associazioni sportive quasi mille associazioni e società sportive un movimento di quasi 65 mila tesserati e quindi poi è arrivata la nota esplicativa martedì della regione che ha dato riferimenti importanti rispetto anche al tema degli allenamenti dell'attività corsistica e su questo noi ovviamente nella giornata di lunedì oltre alle nostre attività il consiglio era quello di tenere le attività sospese anche delle associazioni poi da martedì con un grande anche io penso senza presunzione di poterlo dire lavoro di supporto di consulenza anche dei nostri comitati dei nostri operatori quello che poi ha portato tra ieri e oggi anche associazioni pensiamo al grande movimento citavo prima delle ginnastiche del fitness il movimento soprattutto della danza che ha numeri straordinari nella nostra regione ha una capillarità di diffusione dal punto di vista proprio associativo importante abbiamo una grossa eterogenità rispetto agli spazi perché abbiamo delle associazioni che organizzano attività in spazi ridotti e quindi potrebbero avere problemi anche sull'accesso agli spogliatori pensiamo soprattutto alle attività giovanili quelle che tradizionalmente vedono il genitore il nonno lo zio accompagnare il figlio il nipotino e quindi alcune piccole associazioni che hanno deciso comunque di prendersi qualche giorno in più di sospensione altre perché garantivano possono garantire ecco la non promiscuità e quindi il non accesso alle proprio agli spazi da parte di persone non coinvolte direttamente alle attività che hanno ovviamente riaperto ovviamente l'augurio è che con domenica possa terminare questo stato di emergenza lo vedremo con l'assessore Viale tra poco ovviamente Pesce Ivaldi Ravenna prepariamoci alle domande all'assessore Viale che ovviamente sarà oggetto anche di quesiti con gli sms il numero verde quindi ci rivediamo tra qualche istante qui a Terrazza Colombo Rieccoci al servizio del pubblico anche dialogo con voi confronto ovviamente la necessità di fare informazioni di dare risposte allora con Silvia Isola i whatsapp i messaggi da casa e poi con la regia le telefonate al numero verde 800 640 771 in studio con noi c'è l'assessore alla sanità della regione Liguria Sonia Viale Silvia Buonasera assessore per lei tantissime domande ovviamente la questione che interessa di più in queste ore è quella sui certificati per tornare a scuola visto appunto il provvedimento che ha deciso il governo in tanti si stanno chiedendo ma la domanda specifica è per chi ha fatto assenze prima di questo periodo dell'ordinanza nel caso si dovesse tornare a scuola lunedì dobbiamo fare un certificato medico oppure no so che domani chiarirete questo ma magari avere già qualche informazione per i genitori potrebbe essere importante un aspetto e colgo subito probabilmente è il periodo anche delle settimane bianche giustamente quindi se c'è stata la segnalazione da parte della famiglia alla scuola prima appunto della partenza è sufficiente autodichiarare che non si è state nelle zone a rischio e questo consente di non dover depositare nessun altro documento autodichiarazione sì e i cinque giorni si conteggiano malattia dal lunedì al venerdì quindi non c'è bisogno del certificato insomma se la malattia è stata dal lunedì al venerdì ma domani mattina faremo una circolare esplicativa perché effettivamente oggi abbiamo saputo di tante incertezze di problematiche io sono dell'idea che alle famiglie non dobbiamo dare della burocrazia da fare dobbiamo comunque se c'è una regola rispettarla ma non deve essere una regola che fa insomma che complica già una vita complicata di tante famiglie poi un po' il modello dell'attuazione della legge sui vaccini il modello Liguria la lettera a casa insomma noi le famiglie dovevamo accompagnare l'educazione sanitaria quindi il rispetto delle regole ma insomma senza che sia una burocrazia inutile altra domanda Silvia poi credo che ci siano riflessioni anche con Domenico Tiziano e Giulio Ivaldi sempre sulla scuola si farà pulizia delle aule delle strutture scolastiche in questo periodo di chiusura per igienizzare le aule oppure no Assessore questa è una diciamo fa parte della responsabilità delle strutture scolastiche immagino di sì questo io non ne ho la certezza ma mi informerò col provveditorato ecco a proposito di pulizia di dispositivi eccetera in questi giorni è nata anche un po' tra virgolette perché voi i toni li avete sempre tenuti bassi ne diamo atto al di là dei colori polidici che qua non c'entrano avete tenuto i toni bassi e questo vi va dato atto la questione delle mascherine i cosiddetti DPI dispositivi di protezione individuale perché poi parliamo di sigle ma questo sono comunque le posso già dire che è DPI perché è dispositivo di protezione individuale ecco perfetto DPI io glielo ho detto all'inglese è giustamente la ricetta italiana è un acronimo e già semplifichiamo un pochino è un acronimo acronimo italiano infatti DPI ma a che punto siamo con l'arrivo di queste mascherine? allora noi abbiamo fatto ero presente a una videoconferenza di tutti i governatori col presidente del consiglio e la protezione civile nazionale e tutte le regioni hanno detto non ne abbiamo più stanno scarseggiando questi dispositivi dalla Sicilia al Trentino hanno detto tutti la stessa cosa beh penso che sia insomma ragionevole non era prevedibile e quindi le scorte lentamente si stavano esaurendo la protezione civile nazionale si è fatto carico del problema e ha emanato un'ordinanza di protezione civile dicendo che avrebbe con le procedure d'urgenza quindi quasi una somma urgenza nelle procedure di acquisto provveduto a recuperare delle scorte sufficienti in base alle richieste delle singole regioni noi ieri abbiamo entro le ore 16 come richiesto inviato il quantitativo necessario per la Liguria e lo state ancora aspettando ma le risulta che lo stanno aspettando anche le altre regioni qualche altra regione le ha ricevute ah questa ci sta dando una notizia lo ha detto in conferenza stampa Borrelli il capo della protezione civile e su che base sono state date a una regione piuttosto che a un'altra parere non è dato sapere ritengo che le necessità d'altronde insomma la regione Liguria ha delle necessità e allora anche qui invece di fare polemiche su altre cose io vorrei che ci dessero una mano anche chi in questo momento è in maggioranza in questo paese insomma perché poi di fronte a queste situazioni dobbiamo essere uniti io ho assistito anche a delle riunioni nostre del consiglio regionale in cui i consiglieri di opposizione accusavano noi di non aver fatto scorte sufficienti io dateci una mano insomma abbiamo un consigliere che è dello stesso partito del ministro della salute abbiamo consiglieri del PD abbiamo il consigliere dei 5 Stelle insomma insieme diciamo ecco sosteniamo la Liguria anche perché qua non è una questione di voto seppure si va a votare nella prossima primavera ma qua mi pare che nessuno io spero proprio che questo tema abbiamo visto insomma è chiaro che ci espone infatti io ogni tanto sono a disagio perché è un'esposizione mediatica a parlare su questo tema tra l'altro vorrei parlare anche di tanti bisogni che sono quotidiani e che non è che sono messi da parte ma ricordiamo che tutti i nostri operatori i medici i nostri professionisti comunque ogni giorno si occupano della salute dei Liguri anche se devo dire io oggi sono stata a San Martino mi hanno detto che c'è un calo di media di 100 accessi al pronto soccorso al giorno da quando c'è l'emergenza coronavirus come direbbe qualcuno è viva abbiamo una riflessione da compiere con Domenico e poi la telefonata Domenico? ma io volevo rifarmi a quelle immagini molto belle non nella drammaticità ma nella serietà del momento e io ho avuto una sensazione di tempo sospeso mi è venuta un'immagine come di ritorno un po' al medioevo era questa svestizione quasi di un cavaliere un cavaliere della salute in questi casi non un cavaliere guerresco ecco insomma dovevi tornare un po' indietro in un'Italia forse che la tecnologia ci aveva un po' fatto dimenticare Domenico ti faccio tornare un po' indietro perché tu hai scritto per il sole 24 ore per anni decenni allora ti chiedo hai messo visto che in questi giorni le categorie economiche cominciano ad alzare il ditino qualcuno parlava di 70% di calo dei traffici nei suoi settori di competenza ti ricordi una situazione analogo nel passato? ma ci sono stati situazioni ricorrenti dovute non tanto a fenomeni di emergenza sanitaria anche emergenza sanitaria in casi della SARS misura minore l'ebola che per fortuna ci ha sfiorato marginalmente ma le crisi le grandi crisi politiche internazionali il Golfo Persico ricordiamo anche per esempio i black out dovuti alla crisi petrolifera le famose domeniche no a piedi anche lì incertezza economica rapporti internazionali diventati improvvisamente difficili certo il nostro paese in questo momento è un po' nell'occhio del ciclone sta un po' dimostrando all'estero le sue storiche vulnerabilità noi siamo i paesi dell'incertezza dei tempi burocratici siamo il paese dell'incertezza del diritto adesso stiamo diventando il paese dell'incertezza della salute agli occhi ovviamente e questo in spregio credo a una classe sanitaria e a delle professionalità straordinarie che sono di assoluta valore di assoluta eccellenza purtroppo l'immagine a volte poi se avviviamo nel mondo dell'immagine vediamo che all'estero purtroppo la nostra immagine viene messa seriamente iniziano pesci mi permetto di darti un ulteriore spunto di cui parlavamo proprio oggi con il nostro presidente internazionale Vincenzo Manco il tema diciamo dell'impatto economico di questi giorni si fa sentire anche sullo sport perché appunto parliamo di sport elettantistico amatoriale parliamo di uno sport che è terzo settore come piace dire a noi parliamo però ecco di un mondo del non profit ma di un mondo che si basa sicuramente su tantissimo volontariato l'essenza delle nostre comunità sportive però è un mondo che vede anche nella nostra regione migliaia e migliaia di istruttori di tecnici coinvolti nelle attività le nostre associazioni sportive che hanno programmi di attività sui giovani sui meno giovani su tutte le fasce di età con veramente potremmo chiamarli da un punto di vista delle loro competenze con grandi professionisti legati a un sistema sportivo a un sistema di ordinamento che li reputa dilettanti e quindi tanti istruttori sportivi che hanno un rapporto di collaborazione cosiddetto endo associativo compensi sportivi quindi diciamo comunque un lavoro precario non sicuramente un lavoro con un contratto diciamo di dipendente tante partite IVA che se questa situazione dovesse andare avanti ovviamente in questi giorni si è mosso giustamente anche il mondo della cooperazione con cooperative lega cop sociali su anche attività che appunto l'assessore che ha la delega anche alla politica sociale sa bene e quindi tutti gli interventi che vengono fatti diciamo in rapporto di sussidiarietà con le istituzioni però anche un mondo sportivo che muove economia un mondo sportivo che nel nostro paese muove diciamo sport dilettantistico e sociale alcuni punti di PIL quindi questo è un tema che va tenuto secondo noi in grande attenzione hai fatto bene porre questo accento non solo come presidente di Wispi Liguria ma come vicepresidente nazionale piccola pausa tra poco torniamo assieme l'assessore viale Domenico Ravenna Ediziano Pesce e Giulio Ivaldi oltre che ovviamente le domande da casa con Silvia Isola la nostra inviata all'indamiante sul territorio del Ponente tra poco Rieccoci al servizio del pubblico in questa serata speciale come speciale la nostra programmazione di questa settimana che ovviamente ha lasciato spazio a questo tema un spazio informativo di approfondimento con gli esperti del settore con chi segue la sanità con chi segue l'infettologia l'infettivologia e tutte le sue ramificazioni legate al tema coronavirus noi speriamo e cerchiamo di fare informazione e di cercare di capire meglio cosa sta accadendo e allora lo facciamo anche con le domande vostre quelle che ci inviate al numero di Whatsapp quelle che farete tra poco di nuovo al numero verde Silvia che si dice? Allora una prima domanda da parte di Serena è questa sapete se hanno messo la tenda anche dal pronto soccorso di Lavagna? Assessore viale non ci risulta sono posizionati al Gaslini a San Martino al Galliera Galliera Gaslini San Martino queste sono le tre tende posizionate mi pare che finora ce ne è sono i percorsi separati l'invito ovviamente a non autopresentarsi ai pronto soccorso chiamare l'112 ma anche soprattutto il proprio medico di medicina generale pediatra di libera scelta perché hanno un vademe con un protocollo con loro c'è una grande collaborazione per telefono sanno conoscendo anche il proprio paziente capire anche quello che gli viene raccontato della situazione Assessore viale stamattina ci ha fatto piacere che abbia chiamato proprio un medico di famiglia che diceva proprio in prima persona chiamatemi prima di venire al studio ed è straordinario perché in passato chiamare il dottore era diciamo così quasi in lesa maestà no? invece è stato proprio il messaggio rassicurante e anche l'invito chiamate prima di venire ad affollare lo studio medico io per telefono provo già a darvi informazioni è veramente un messaggio globale mi ha fatto venire in mente una notizia proprio di adesso che l'Astre ha organizzato la modalità dell'accesso diretto nei tre ambulatori codice bianca del fine settimana quello a Rivarola a Fiumare a Recco proprio per adeguarsi a quelle che sono le indicazioni e chiede l'Asl di chiamare il giorno prima per potersi recare all'ambulatorio codici bianchi il sabato e la domenica ovviamente sul sito della Stre ci sono tutte le indicazioni immagino che anche questa misura sia compresa dai cittadini tra l'altro una bella iniziativa quella dell'ambulatorio del weekend dei codici bianchi che tra le altre mira a dire non andate al pronto soccorso se avete un po' un male alla gamba andate all'ambulatorio del codice bianco e lì trovate un medico che eventualmente poi dopo vi indirizza ma intanto non va a follare il pronto soccorso che è un pronto soccorso per salvare le vite di altra natura per salvare le vite abbiamo un altro messaggio un'altra richiesta Silvia poi le telefonate ai regia eccoci Silvia Sì sempre per l'assessore mia madre è anziana in una struttura privata e da lunedì non posso andarla a trovare mi sapete dire se l'ordinanza sulle visite in strutture private terminerà e quando è legata all'ordinanza madre in qualche modo perché era compresa come misura però per evitare di avere anche degli andamenti irregolari da struttura a struttura abbiamo fatto degli incontri con gli enti gestori e si è ritenuto di fare entrare in struttura un caregiver assistito per persona lì accolta il caregiver in questo caso è un professionista o può essere anche un parente? no è un familiare che assiste la persona in uno dei diciamo momenti della vita quotidiana come può essere il pranzo o la cena ecco proprio per che si tratta di una popolazione fragile quella nelle residenze anche questo so quando l'abbiamo valutato con gli esperti è stato insomma anche difficile dire che per un momento di conforto non c'è il proprio caro per una settimana sappiamo che è una misura severa ma è nell'interesse della salute dei pazienti tra l'altro sessore volevo aggiungere per esperienza diretta che questa misura ovviamente per tutelare diciamo i pazienti pazienti particolarmente fragili soprattutto malati terminali è stata adottata anche per esempio per il volontariato alla Gigi Rotti il volontario mentre prima operava in equip due o tre volontari adesso le precauzioni del caso inducono ad assistere il malato addirittura uno per volta cioè non affollare anche se ovviamente la prestazione di volontariato è di per sé una prestazione come dire altruistica e di solidarietà però anche in questo caso bisogna limitare la solidarietà hai fatto bene a raccontare anche questa questa esperienza abbiamo una telefonata numero verde 800 640 771 il suo nome da dove chiama ci ascolti dal telefono buonasera è pronto buonasera io chiamo da Busalla mi chiamo Maria e volevo un chiarimento ho un figlio di 17 anni che il venerdì 21 è stata a casa per un semplice male di pancia e poi tutta la settimana è stata bene ora la mia domanda era questa posso lunedì mandarla a scuola senza certificato medico o occorre il certificato medico io credo che tutto questo poi verrà chiarito domani nella conferenza stampa domani le chiariamo però temo che nel suo caso potrebbe esserci bisogno o no l'assessore Viale anticipa no domani domani c'è un chiarimento ci sarà un documento che verrà emanato quindi la invito signora che ci chiama da Busalla domani a seguirci sul nostro sito nei nostri telegiornali nella nostra diretta iniziamo alle 7 andiamo avanti fino alle 15 poi dalle 18 alle 23 perché avremo questo chiarimento però l'assessore Viale è ottimista sul fatto che non serve al certificato se venerdì suo figlio ha avuto un semplice mal di pancia abbiamo chiesto a Wisp e a Figgici di fare una domanda visto che abbiamo la fortuna di avere qua in studio l'assessore alla sanità parto da te Tiziano l'occasione ghiotta mi permetterai te soprattutto mi permetterà l'assessore più che una domanda una considerazione su quanto veramente lo sport sia sempre più attività di prevenzione e promozione e allora come dire un'idea diciamo di ancora di una più grande collaborazione di quella che c'è già con Regione Liguria sul tema appunto di mettere in atto una campagna ecco di promozione partendo anche dall'emergenza di queste settimane che possa far capire sempre di più alle famiglie soprattutto ai nostri giovani ecco l'importanza e anche il momento straordinario che stiamo vivendo augurandoci che non ci siano più necessità di questo tipo ma ovviamente la penetrazione dei nostri sportivi di tutte le età in tutte le famiglie come dire abbiamo un ragazzino che fa sport abbiamo anche una persona meno giovane che fa sport diciamo ci sono messaggeri di messaggio lo sport potrebbe essere sempre più un messaggero di educazione civica ma io direi che questa triste questa per alcuni casi drammatica quando ha avuto un esito ovviamente come abbiamo letto 17 se non ricordo ma sono i casi italiani che dai nostri scienziati i nostri esperti sono ridimensionati rispetto ai numeri dell'influenza però questa emergenza ha aperto gli occhi su quelle che sono le regole di igiene quotidiana lavarsi le mani la cautela quando si starnutisce stare a distanza da una persona che ha dei sintomi cioè sono tutte cose che magari si davano per scontate ma che bisogna trasferirla alle nuove generazioni anche il posizionamento dei gel ecco questo dovrebbe diventare una regola in qualche modo al di là dell'emergenza che stiamo vivendo ecco già queste sono delle buone pratiche quindi direi che dobbiamo poi proseguire su questo fronte fare tanta igiene e educazione sanitaria anche perché no sull'utilizzo del nostro sistema sanitario pubblico che è uno dei migliori al mondo per quanto garantisce ai cittadini ma forse non tutti sanno cos'è un diritto un dovere rispetto alla sanità pubblica dello sport amatoriale come veicolo di promozione anche della sanità pubblica sicuramente abbiamo stabilito un nuovo contatto che già c'era ma l'abbiamo rafforzato tra questi due mondi e un'altra telefonata al numero verde pronto? pronto chi parla? pronto pronto buonasera il suo nome è signora buonasera Roberta benvenuta Roberta ci dica tutto buonasera senta io lavoro in un osocomio genovese del quale non faccio il nome noi siamo sprovvisti da da oggi della soluzione alcolica che serve assolutamente per l'igiene delle mani ne abbiamo ordinate una decina di saconi ne sono arrivati quattro quindi non c'è più signora pronto? insomma mi pare che la signora rappresentava una situazione che probabilmente è molto simile a tante situazioni oggi ne hanno ordinato 10 e ne sono arrivati 4 da quello che ho capito si può consolare ora faccio una battuta assessore me la consenta la regione la richiesta è un po' di più ancora non sono arrivate intendo le mascherine questo per ritornare al discorso prima è giusto insomma diciamo che si è visto questo corsa a rifornirsi io mi auguro che nessuno sprechi nulla perché in effetti questo insomma bisogna anche avere diciamo cautela anche perché una volta usata la mascherina poi la devi buttare non è che poi la appoggi come il casco e te la rindossi attenzione questi dispositivi poi sono per gli operatori il DPI è solamente per gli operatori per proteggere l'operatore mentre entra in contatto con la persona le mascherine servono perché la persona non sia lui a contagiare gli altri quindi diciamo penso che ormai questo lo abbiamo imparato tutti in qualche modo ma fa bene a ricordarlo però bisogna ricordarlo e allora credo che ci sia forse un'altra telefonata vediamo se possiamo andare a raccogliere una telefonata Silvia eccoci Silvia con i messaggi il dialogo e poi c'è Giulio Ivaldi per l'assessore viale eccoci Silvia una riflessione invece che riguarda il mondo del turismo mi farebbe piacere se parlasse un po' del danno economico per la città dato che dopo il Ponte Morandi questa situazione rischia veramente di mettere in crisi questo settore dai musei ai teatri e ne abbiamo parlato anche con il sovrintendente del Carlo Felice proprio questa sera eh già se ne parlava anche con l'assessore Benveduti però è un tema nazionale sessore è un tema nazionale e quello che possiamo fare come Regione Liguria abbiamo già incontrato tutte le categorie proprio ieri sera sia la parte datoriale che i sindacati che le categorie tutte quante insieme perché dobbiamo mettere quali sono le esigenze i bisogni e le criticità a livello nazionale io immagino che su questo tema si possa ottenere un consenso anche bipartisan come è accaduto purtroppo per la tragedia del Ponte Morandi ci sono situazioni che il paese deve sentire come di tutti non di una sola parte politica al di là dell'appartenenza alla maggioranza all'opposizione di quello che c'è bisogno è sotto gli occhi di tutti è chiaro che dovremo diciamo in qualche modo poter mettere insieme delle risorse economiche in base alla durata anche di questo periodo tenendo conto che già in atto ci sono dei danni economici quindi su questo non si discute che sono tangibili oltre a quello che dicevamo prima del fatto che vedi proprio meno gente circolare e meno gente viaggiare quanti viaggi annullati quante gite annullate giusto per fare un piccolo esempio visto che si parlava di scuola allora regia facciamo una cosa facciamo una piccola pausa tra poco torniamo assieme perché c'è Giulio Ivaldi con una riflessione dalla FIGC abbiamo Linda per concludere i nostri collegamenti dal ponente e poi ancora tante domande per l'assessore Viale restate lì eccoci ben ritrovati rieccoci al servizio del pubblico in questa serata speciale come speciale lo andiamo dicendo la nostra programmazione di questa settimana dedicata ai temi del coronavirus Silvia Isola in redazione pronta ma prima Linda Miante perché si è spostata da Lazio si trova ad Albenga credo di fronte al pronto soccorso di Albenga rieccoci Linda perché una parte di questa storia che riguarda il ponente è partita proprio da lì dalle tue spalle proprio così Luca siamo davanti in realtà all'ingresso dell'ospedale di Albenga perché è qui che idealmente chiudiamo il nostro ciclo di cronaca legata appunto al contagio dell'Alassino in questo caso per la provincia di Savona ovviamente è qui che era stata trasportata nei giorni scorsi la prima donna risultata positiva la donna di 74 anni appunto proveniente dalla zona rossa Lombarda è giunta qui proprio perché non sentendosi bene aveva insomma chiamato il 112 ed era stata trasportata qui ovviamente l'Asl Savonese l'Asl 2 aveva fatto gli accertamenti circa i contatti che la donna aveva avuto anche all'interno della struttura come ha ricordato anche nei giorni scorsi il governatore Toti sono stati messi in isolamento volontario ovviamente per precauzione la donna poi essendo all'epoca non ancora entrata in vigore l'ordinanza era tornata presso la struttura di Alassio in taxi ma ovviamente sono state prese tutte le misure di precauzione la situazione qui è molto tranquilla abbiamo poco fa incontrato alcuni operatori di Asle che erano poco fa ad Alassio quindi c'è comunque tranquillità c'è serenità anche per le condizioni dei pazienti di queste 19 persone che sono divise nel nostro territorio Ligure e ovviamente qui quindi possiamo dare una sorta di buon augurio anche non solo per le persone che appunto in questo momento sono in isolamento ma anche tutti coloro che all'acremente in questi giorni si stanno adoperando volontari e non per informare e lavorare al fianco di tutte le persone quindi direi che ci possiamo dare appuntamento a domani sperando che ovviamente di giorno in giorno la situazione ai migliori ce l'auguriamo anche noi grazie a te Linda dell'ottimo lavoro con l'operatore Mauro Panozzi con il nostro cameraman dal ponente prima ad Alassio e poi ad Albenche in questa serata di cronaca Assessore c'è ovviamente un mondo di professionalità e prima scherzavamo perché combinazione abbiamo lo conosciamo per l'influenza il professor Riccardi poi abbiamo l'abbiamo conosciuto questa sera il professor Ansaldi poi c'è il professor Bassetti due su tre tra l'altro sono cognomi calcistici Riccardi ha giocato nella Sampa nell'Inter e ora il Paris Saint Germain Ansaldi ha giocato nel Genoa nell'Inter e ora nel Toro insomma Bassetti possiamo fare anche una variazione se lo trasformiamo in Bassetto è un tridente che veramente ora al di là di tutto noi non amiamo diciamo così cantarcela e suonarcela però dobbiamo dire che a livello nazionale in più occasioni e anche in questo caso hanno fatto scuola sì devo dire che grazie a loro io in Commissione Salute quindi con tutti gli assessori regionali ho esposto tutte le criticità dei protocolli che fino allora erano stati messi in atto a livello nazionale anche qui non ho voluto farne una questione politica ma devo dire che ho consegnato tutto nelle mani del Ministro Speranza tra l'altro eravamo ancora nel momento in cui non era prevista la quarantena obbligatoria per gli adulti era prevista soltanto per gli studenti dopo anche lì diciamo un momento di incertezza rispetto alla misura e devo dire che molte delle misure indicate in quel foglio che è lì solo da leggere dall'individuazione dei laboratori autorizzati al fatto che il tampone si fa soltanto quando si è in presenza di sintomi e non su pazienti asintomatici poi hanno avuto una trasformazione in regole nazionali quindi grazie a loro grazie a loro veramente perché sono cauti nel descrivere ho letto anche dei messaggi qualcuno dice ma l'assessore minimizza non sono io che minimizzo io ascolto molto chi ne sa più di me chi è un professionista un professore universitario sono i nostri riferimenti scientifici io mi richiamo a quello che loro dicono certamente non sono mie iniziative e anzi io penso che la politica debba in qualche modo ascoltare i cittadini i loro bisogni sentire i tecnici e poi purtroppo fare delle sintesi come quella dell'ordinanza che è stata assunta in assenza di casi ma considerare la regione Liguria come una regione che non ha poi confini perché Lombardia e Piemonte la ponevano in una situazione assolutamente differente dalla Puglia ad esempio e quindi questo è il ruolo della politica insomma anche anticipare perché la scienza ci diceva una cosa ma la lettura delle cose ne diceva un'altra e quindi abbiamo scelto la prudenza aggiungo aggiungo che questo farsi carico in nome della prevenzione anche di essere un pochino impopolari perché quando uno adotta un provvedimento poi scontenta qualcuno e trova la comprensione di qualcun altro quindi ci vuole anche coraggio Ivaldi FIGC una riflessione con l'assessore Viale sì è proprio una riflessione assessore perché tanto l'ora tarda da stamattina signora che sarà subissata di domande noi il nostro mondo è un mondo che diciamo in questo contesto deve accettare con molta serenità quelli che sono gli eventi nell'auspicio che effettivamente questi eventi vadano verso una normalizzazione che auspichiamo tutti ovviamente anche per gli aspetti economici che coinvolgono tutti e che coinvolgono come Tiziano ha ben rappresentato prima anche il nostro mondo dello sport non solo il mondo dei professionisti ma anche il mondo del dilettantismo noi sabato e domenica si muovono circa 50-60 mila persone per la regione per le diverse trasferte considerando ovviamente i giocatori eccetera abbiamo avuto qualche difficoltà nell'interpretazione iniziale ma devo anche dire che nella mia così essere di parte per il calcio eccetera ho letto anche una cosa bella per noi nel senso che al primo punto dell'ordinanza si parla di sport e questo è una cosa insieme alla scuola ovviamente è una cosa che ci gratifica perché da sempre noi diciamo che lo sport che non è solo lo sport professionistico ma il sport è qualcosa di importante anche e soprattutto da un punto di vista sociale noi insegniamo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi che giocano a calcio certamente a giocare a calcio ma soprattutto a essere all'interno di un gruppo che li fa crescere da un punto di vista sociale perciò io vorrei dirle che il mondo dello sport per quello che io posso rappresentare in questo momento non ha particolari criticità ci auguriamo effettivamente che le situazioni vadano verso una situazione migliore o che vadano verso una localizzazione perché potrebbe essere anche un provvedimento intermedio tra il niente e il tutto ci può essere una localizzazione di alcune aree in cui magari anche la prossima settimana non si potranno svolgere delle attività ed altre in cui si potranno svolgere liberamente siamo anche convinti che a fronte di qualche situazione un po' poco chiara nella prima stesura dell'ordinanza che sia avvenuta anche un momento un po' difficile e particolare l'esperienza e le diverse ordinanze le due mi sembrano successive poi l'ultima del presidente del consiglio di ieri se non ricordo male stiano andando verso invece punti più chiari sui quali noi siamo abbastanza sereni di potere quindi lei noi siamo con voi da questo punto di vista non ci sono solo Mugugnone visto se sono abbiamo gli ultimi messaggi da casa Silvia torno a te per poi salutarti e poi andare a due notizie di calcio con Domenico perché comunque Domenico si gioca si gioca a Milano geno alle 12.30 Silvia io chiuderei proprio con il mondo dello sport ancora un'ennesima riflessione sul fatto che alcuni si chiedono ma come mai si gioca magari in alcuni campi da calcio ci si allena come mai le palestre sono aperte allora ancora un'ultima riflessione e permettetemi una battuta finale perché c'è chi ci scrive ma ve lo immaginate un caso di positività al coronavirus di un calciatore di Geno Samp quarantena per la squadra ce lo immaginiamo ma non c'è primo e secondo nel calcio funzionistico in 16 già mi pare la pianese in lega in ultimano della 16 tra l'altro scusa Luca a beneficio della nostra amica Silvia deliziosa nonostante il cognome non è in isolamento ecco aspettavamo stasera Domenico Ravenna ancora non aveva fatto delle soprattutto delle caustiche è remolta è impostazione remolta è distante tra poco le notizie sul calcio Assessore prima di salutarla volevo da lei avere due riferimenti poi chiudiamolo dico a beneficio della regia due riferimenti l'agenda dei prossimi giorni che cosa prevede domani quelle giornate importanti perché c'è il discorso dei certificati medici scolastici ma ci sono altre questioni sì c'è il monitoraggio della situazione sul territorio Ligure noi faremo ovviamente la conferenza stampa la sera per dare i numeri il senso sia la sorveglianza attiva che i casi speriamo che siano tali che rimangano tali c'è ovviamente anche la questione di Alassio dell'opportunità della possibilità di avvicinare queste persone a casa io penso che la collaborazione con la regione Piemonte con la regione Lombardia deve andare a un risultato io penso che sia necessario dare questo tipo di segnale insomma i presidenti si sono sentiti si devono intendere diciamo su alcuni percorsi ovviamente di sicurezza di salute delle persone quindi non c'è ovviamente nessun altro motivo ecco io spero che domani la situazione di Alassio possa essere ricondotta alla normalità questo diciamo è il grande appuntamento di domani notizie flash dal calcio e l'arrivo dei DPI e l'arrivo dei DPI ci hanno voluto a un vucudino si dice è certo che dovrebbero arrivare domani ecco mi auguro di sì ci auguriamo che domani arrivino anche per la regione Liguria i DPI dispositivi di protezione individuale flash dal calcio abbiamo detto di Goldaniga che si sta allenando a parte perché lui è originario di Codogno non ha nessun sintomo nessun problema ma il difensore del Genoa si sta allenando a parte a scopo precauzionale ma sta Benone come Benone sta il resto della squadra designato l'arbitro di domenica a San Siro alle 12.30 sarà Doveri di Roma con i rati al VAR anzi scusate sì al VAR i rati di Pistoia Guardalino Locicero Galletto quarto uomo Pasqua per quanto riguarda il Milan sembra destinata a esserci un avvicinamento tra i pali con Begovic al posto di Donnarumma davanti invece confermatissima la coppia Rebic-Ibraimovic di cosa temi di questa sfida cosa temi di questa sfida Domenico? beh insomma certamente è un banco di prova assolutamente probante dal punto di vista dell'attuale ripresa che il Genoa sta manifestando con la Lazio abbiamo visto una bella squadra una bella squadra d'altronde il contesto sarà un contesto del tutto particolare un contesto per fortuna piuttosto raro ma non inusuale le partite a porti chiusi ogni tanto costellano un po' i nostri campionati peraltro mi spiace dover ricordare che Milan Genoa a porti chiusi già si è giocata purtroppo legata ai fatti tragici drammatici dell'omicidio spagnolo sai anche la percezione televisiva di una partita a porti chiusi è una percezione particolare perché invece del sottofondo del pubblico c'è il brusio degli addetti ai lavori c'è l'impatto con la palla e ci sono le urla dei calciatori e degli allenatori quindi è un po' diciamo un contesto lunare rispetto alla tradizionale clamore diciamo un po' come una partita dei dilettanti si diventa una sorta più o meno al pubblico si respira di nuovo un po' esatto si risente l'odore dell'erba insomma certi valori che sono anche televisivamente ti accorgi che è uno scenario forse un po' più ruspante un po' più vero vedremo come andrà a finire noi ci saremo domenica a raccontarvi questa sfida particolare ma ci saremo ovviamente domani già a partire dalle sette come tutti i giorni in questa settimana speciale ringrazio innanzitutto l'assessore regionale della sanità da Sonia Viale ringrazio il nostro Domenico Ravenna il vicepresidente nazionale di Wisp il presidente regionale di FIGIC Giulio Ivaldi grazie anche al nostro staff tecnico ovviamente a chi ha reso possibile i collegamenti alla nostra lindamiante e a Silvia Isola in redazione noi ci rivediamo domani buona serata e buonanotte e la nostra lindamiante grazie a tutti ieri Grazie a tutti.